Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. La Sette è un'operazione di sicurezza. L'operazione di soccorso non la decidiamo noi autonomamente. Frontex, che è un'agenzia che fa parte di un trattato internazionale, con un aereo vede la situazione di criticità di quella barca, avvisa che c'è un soccorso. Non lo decide neanche Frontex. Quando Frontex comunica che c'è pericolo nella navigazione, la centrale italiana attiva il soccorso. Voglio solo ricordare che l'agenzia Frontex ha chiarito che non tocca a lei dare l'allarme per fare intervenire l'operazione ricerca soccorso. Non tocca attivare l'evento SAR, ma tocca a lei segnalare che c'è una criticità nella navigazione, cosa che non ha fatto perché non c'era. Però voglio dire due cose, scusate. Allora, Nadia Orbinati, giustamente, la professoressa ha parlato, dice, certo non c'è stata volontarietà, e Massimo Giannini ha detto, bisogna avere un po' di gravitas in questi momenti, lo doveva avere il ministro degli interni. Dico anche noi, probabilmente come opinionisti e come giornalisti, io ad esempio sono rimasto sconvolto dal titolo della stampa fatto da Massimo Giannini, strage di Stato. È un titolo volgare, strage di Stato, secondo me è un titolo volgare, giornalisticamente sbagliato, irrispettoso delle istituzioni, un titolo da sciacallaggio giornalistico, un titolo proprio infame a leggersi. Quindi noi dobbiamo avere una certa gravitas, tu chiedi la gravitas a Piantedosi, che l'ha dimostrata in Parlamento, e poi qual è la gravitas che noi abbiamo quando un collega, in questo caso tu, fa un titolo strage di Stato? Ma sai che accusa è di restraggio di Stato? Come se qualcuno avesse voluto far morire quelle povere persone. Questo è il paese che in Europa accoglie più immigrati, è il paese che vuole accoglierne ancora di più di immigrati regolari, solo che è un paese che le leggi di sinistra ne hanno fatto un colabrodo, per cui non si fermano in Grecia, non si fermano a Malta, non si fermano a Cipro, e vengono tutti qui, perché qualcuno gli ha spiegato che noi accogliamo tutti quelli che vengono, anche se sono immigrati regolari, e ciò non è possibile. Molto bene, posso rispondere? Prego. Allora, intanto strage di Stato, lo confermo e l'ho spiegato. Altro che sciacallaggio, quando io parlo di strage di Stato non sto dicendo, e mi riallaccio a quello che diceva prima Nadia Orbinati, che qualcuno ha voluto far morire quelle persone. Io faccio un discorso diverso, e cioè, da un lato rimane quel buco nero di diverse ore, durante le quali non scatta il meccanismo di soccorso, in una situazione nella quale era evidente che il soccorso fosse necessario. E non è, adesso mi faccio a finire, non è vero che toccava Frontex, perché Frontex dà la prima segnalazione. Se a distanza di 5 ore il mare cambia completamente, come è cambiato, non è che ci rifacciamo a quello che ha detto Frontex 5 ore prima, per decidere chi far uscire a salvare quei poveri Cristi, no? Perché se il mare passa da forza 4 a forza 7, da quando Frontex ha segnalato, tocca alle nostre autorità capire e stabilire chi deve intervenire. In quel caso non poteva che essere la guardia costiera. Questo non è avvenuto. E perché io parlo di strage di Stato? Perché c'è un clima in questo paese, Bocchino, e voi lo state confermando, e lei lo sta confermando, perché nel momento stesso in cui lei dice che questo è un paese che con Giorgia Meloni vuole accogliere quanti più migranti regolari è possibile, e però al tempo stesso le leggi della sinistra del passato hanno trasformato questo paese in colabrodo e tutti pensano che qui si può venire tranquillamente. Ecco, la narrazione qual è? Finora, e non da oggi, e non solo per le leggi di sinistra, la sinistra ha fatto enormi errori, per essere chiari, una delle misure che ha aperto il fronte, da questo punto di vista, contro le ONG e creato un clima ostile ai salvataggi, è stato Marco Minniti quando fa quell'operazione con le autorità libiche e poi vara il primo decalogo per le ONG. Quindi per essere chiari, io non è che sto dicendo che è tutta colpa della destra, è un problema che abbiamo da decenni questo, però adesso il clima è cambiato, è cambiato. Si vuole disincentivare e far capire che adesso qui c'è gente che non ti apre più le frontiere, non arrivi più così facilmente. Allora... E questo è iniziato nel 2018 con Matteo Salvini, i decreti di sicurezza hanno aperto questo stato di cose. Che la sinistra non ha mai cambiato. Finisco, finisco, vi lascio subito la parola. In questi quattro anni la narrazione è stata questa, è stata porti chiusi, è stati blocchi navali. Allora, anche le altre istituzioni, io non dico che abbiano voluto far morire, ma si respira questo clima, capisce Bocchino? Allora... E anche chi deve operare in mare per il soccorso, in quei pochi minuti in cui deve prendere una decisione, cosa sappiamo noi quanto incide il clima politico, culturale e ideologico che c'è? Per me incide, ed è per questo che scrivo strage di Stato. Non dico che Meloni ha detto fateli morire, questo non me lo sono mai sognato, però è un contesto politico, culturale, che mi spinge a dire, la dico alla Pasolini, questa è una strage di Stato, in quel senso lì, non perché c'è stato del verolo. È chiaro? Professoressa Urbinati.